ciao amici buongiorno e di nuovo bentornati al nostro consueto appuntamento delle pillole siamo nuovamente all'interno della concessionaria progetto auto concessionaria jaguar land rover di pescara chieti e teramo e con me c'è l'experimenti buongiorno a tutti giacomo allora in questo numero in questa puntata vogliamo parlarvi di alcune cose che ci sono state sottoposte la prima è l'aggiornamento del software del defender l'aggiornamento del software chiariamolo subito giacomo non può essere forzato assolutamente no l'aggiornamento del software avviene in modo automatico quindi tramite la nostra sim dati che appunto ci è stato fornito dal nostro concessionario in fase di consegna eccetera viene scaricato e poi dobbiamo andare a fare noi l'installazione che però avviene ripeto in autonomia quindi non può essere forzato quando è che vi accorgete che c'è l'aggiornamento quando in alto a sinistra sull'icona dell'account quindi sul pv pro sullo schermo centrale della macchina appare una notifica in quel momento cliccate sull'icona sull'icona in alto a sinistra esattamente viene fuori aggiornamento scaricato e vi dice più o meno il tempo di installazione dai 40 a 40 50 minuti in quel momento potete decidere di installare o programmarlo per un successivo momento ovviamente la macchina deve essere ferma spenta e bloccata per tutto il periodo dell'installazione esatto quindi dovete scendere dalla macchina bloccarla con il doppio blocco assicurare anche che tutti i finestrini del veicolo sono chiusi esattamente con il doppio blocco cioè dovete sentire il beep del doppio blocco e a quel punto l'aggiornamento inizia quindi non è possibile forzarlo non è possibile fare altro se non succede che c'è la notifica dobbiamo attendere gli aggiornamenti stanno arrivando anch'io ancora non lo ricevo vi prometto che appena mi arriva la notifica vi faccio tutto il video di come si procede d'accordo? comunque se avete domande come sempre qui sotto nei commenti scriveteli e utilizzate anche la mail ve la metto qui in sovrimpressione del club newdefenderbestclub.it chiocciola gmail.com perché tutte le richieste di informazioni domande eccetera che arrivano a questa mail saranno girate a Giacomo all'expert di progetto auto che ci risponderà a differenza mia che come vi dico sempre non sono nessuno io parlo delle mie esperienze a differenza mia lui ci risponderà in maniera tecnica sia se le cose le conosce direttamente o se no informandosi su casa madre con altre persone per poter rispondere alle domande quindi mi raccomando se avete domande scrivetele qui sotto mandateci una mail eccetera parliamo di un'altra cosa che ci viene chiesta abbastanza spesso i pneumatici allora spesso quando si va ad acquistare la macchina si pensa ad una serie di accessori che sono sicuramente importanti accessori di comfort vi ricordo sempre che nel mio libro io e il mio defender che potete trovare su Amazon c'è l'elenco di tutti gli accessori disponibili e addirittura c'è una tabella che potete scaricare perché è anche scaricabile dove io consiglio gli accessori come dire tecnici non solo di comfort a seconda dell'utilizzo maggiore dell'auto che ne farete per cui se vi interessa questa cosa è all'interno del libro parliamo quindi dicevamo degli accessori spesso ovviamente si decide di prendere il cold climate pack piuttosto che il regolatore di velocità assistita i sedili riscaldabili eccetera eccetera e finché si lavora a livello interno tutto a posto quando si va a decidere di acquistare degli accessori degli optional che riguardano l'esterno della vettura la cosa si fa un pochino differente la prima situazione capita spesso con i pneumatici esattamente ora non tutti coloro che acquistano New Defender magari vanno a fare offroad o lo vogliono fare però può capitare che qualche volta a un certo punto decidano di partecipare a un nostro evento e si trovano in difficoltà ora diciamo subito il cerchio migliore per l'offroad in assoluto? il 19 secondo me con il 19 abbiamo un giusto compromesso anche in base all'estetica questo è il mio pensiero io che voglio dire faccio un pochino più il tecnico dico il 18 perché? perché il 18 con il cerchio d'acciaio è sicuramente quello che ha la spalla più alta per cui garantisce il massimo della tranquillità il 19 è il giusto compromesso il 20 comincia ad avere qualche problemino perché? perché la spalla diventa un po' troppo bassa e soprattutto quando si fanno terreni accidentati soprattutto le pietraie è abbastanza probabile la foratura e forare quando si è in offroad vi posso assicurare che non è una bella esperienza ora se si decide di montare delle gomme un po' più tassellate un po' più specifiche per l'offroad l'endrover mette a disposizione in sede di acquisto le gomme per il fuoristrada che sono attualmente le Goodyear Wrangler come anche quasi su tutta la gamma esatto su tutta la gamma ci sono queste macchine queste gomme montando queste gomme otterrete il codice H sul libretto è uno dei codici di velocità codice V, codice H che determina la velocità massima e l'indice di carico se non avete il codice H sul libretto vuol dire che non è stata immatricolata con gomme tassellate quindi da fuoristrada avremo un altro codice che non fa differenza da quel punto di vista però un indice di velocità inferiore e quindi non potremo montare delle gomme più tassellate per cui il consiglio è siccome poi l'omologazione da quello che ci risulta a noi poi il CETOC che è l'organismo che determina l'immatricolazione non è come dire uguale da quello che abbiamo capito noi in tutta Italia però non è facile poi ottenere l'immatricolazione da una gomma standard piuttosto che verso quella tassellata cioè ottenere il codice H per cui state attenti spendete 300 euro in più quando state comprando una macchina che costa 100.000 euro e garantitevi questa situazione perché perché eventualmente se ci fate moltissima strada in autostrada e qualche volta fuori strada eventualmente comprate un altro treno di gomme esattamente mi sono accorto sulla mia macchina questa è stata un'esperienza personale sulla precedente avevo il cerchio d'acciaio da 18 e su questa ho il cerchio in lega da 19 quando ho sostituito le gomme a 50.000 km con il cerchio da 18 le Goodyear Wrangler le ho pagate 150 euro l'una qualche giorno fa purtroppo in autostrada ho forato una gomma qui sul 19 sono andato dal gommista pensando di spendere più o meno quella cifra anzi forse meno perché in effetti di gomma ce n'è meno e invece la sorpresa è stata che la gomma veniva 240 euro quindi 90 euro in più questo che vuol dire vuol dire che per assurdo il cerchio da 19 che è il più comodo esattamente a livello di prezzo è più costoso rispetto magari a un 20 o un 18 cioè l'assurdo è che il pneumatico costa di più esattamente perché c'è una minore scelta relativamente a questa dimensione sia di marca che di tipologia di pneumatico è un mercato più limitato quindi abbiamo un costo maggiorato rispetto a un 20 o un 18 quindi in questo momento abbiamo noi messo un dilemma a voi che cosa comprare il 18 sicuramente è quello che in offroad garantisce meglio cioè indubbiamente è meno performante di un cerchio da 20 il cerchio da 20 è quello che è sicuramente più performante in velocità in tenuta eccetera in curva il 19 che è il giusto compromesso tra tutti e due però è quello che penalizza di più nel momento in cui si va a comprare la macchina ultima cosa il libretto e le omologazioni spesso quando si acquista la macchina non si pensa che poi si monteranno degli accessori e io vi consiglio sempre di montare gli accessori originali perché vengono montati direttamente dal concessionario sono garantiti e quindi vi danno la miglior e maggior sicurezza possibile ma gli accessori che poi vengono montati sulla macchina devono essere omologati cioè devono essere inseriti al libretto in sovraimpressione vi metto la foto del mio libretto la mia macchina ha montate le pedane come unico accessorio esterno ma come potete vedere la lista degli accessori già omologati è completa quindi vedete che c'è il verricello le pedane laterali il portapacchi eccetera 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 perché sono tutti accessori che abbiamo sul configuratore quindi che possiamo dare inserire in fase di configurazione del veicolo e abbiamo poi quando viene immatricolato ad esempio il veicolo con pedane laterali quindi mi raccomando perché anche il portapacchi che qualcuno monta così in maniera deve essere omologato perché modifica le dimensioni della vettura quindi attenzione il consiglio è siccome il defender con le pedane secondo me è anche esteticamente molto bene senza considerare che sul io sul 110 ce ne ho perché sennò mia figlia non riuscirebbe a salire ma anche sul 90 è molto comodo perché secondo me è ancora più fondamentale sul 90 perché ci facilita un accesso posteriore io infatti lo consiglio quasi sempre su un defender 90 perché l'accesso posteriore sappiamo che è particolare ed è difficoltoso a tratti quindi con la pedana abbiamo la possibilità di poggiare il piede 5 cm più bassi quindi la pedana che è un accessorio che sì ovviamente ha un prezzo importante però vi garantisce due cose una migliore accesso al veicolo esattamente e nello stesso tempo contestualmente l'omologazione di tutti gli accessori disponibili che potete montare anche in un secondo tempo vi metto adesso la foto di un veicolo che non è dove non ci sono non c'è l'omologazione degli accessori e dove non sono state montate le gomme per il fuoristrada e come potete vedere l'indice di velocità è solo V quindi solo quel tipo di pneumatici si possono montare e come vedete non c'è l'elenco degli accessori quindi questa persona quando e se deciderà di montare le pedane deve procedere a una immatricolazione esattamente deve essere fatta una revisione del libretto per apportare appunto queste modifiche ora questa operazione costa circa 3-400 euro esattamente la cifra è lì in circa quindi magari abbiamo pensavamo di risparmiare all'inizio e poi invece abbiamo dovuto spendere di più quindi il consiglio è quando configurate la macchina il concessionario il venditore del concessionario ma soprattutto l'expert del concessionario vi deve consigliare cioè è vero noi possiamo andare sul configuratore sceglierci tutto quello che vogliamo ma poi con quella configurazione facciamoci consigliare la situazione migliore possibile dipende sempre comunque dall'esigenza del cliente questo è fondamentale come dicevamo anche prima certo il consiglio di un esperto o di una figura esperta è sicuramente fondamentale quindi siccome c'è giunta anche voce che qualche volta qualche rivenditore magari più interessato a vendere un mezzo che è interessato alla soddisfazione del cliente dice che le cose magari non completamente esatte stateci attenti e anche qui se avete necessità come sempre commento qui sotto scriveteci una mail ve la riscrivo qui di nuovo newdefenderbestclub.it chiocciola gmail.com siamo a vostra disposizione a questo punto l'ultimo pezzettino parliamo del club perché? perché da pochissimo è uscito il nuovo calendario il nuovo calendario che è scaricabile sul sito www.newdefenderbestclub.it e è ricchissimo quest'anno è ricchissimo anzi io non me lo ricordo nemmeno perché lo vado a leggere e iniziamo dal 25 al 28 aprile un tour in Puglia già l'anno scorso a fine anno a novembre l'abbiamo fatto quest'anno lo ripetiamo con percorsi ancora più belli ancora più interessanti ancora più immersi nella natura perché andremo anche a mattinata rifaremo un altro giro all'interno della foresta umbra e all'interno del Gargano poi dal 31 maggio al 2 giugno ci sarà il glamping tour in Abruzzo il glamping tour organizzato ovviamente da noi insieme a Francesco Salvaggio che ha scritto un libro specifico sui glamping che si chiama glamping porn e andremo a fare un giro andando a scoprire questo nuovo modo di fare turismo di fare vacanza di rilassarsi solo che raggiungeremo questi glamping facendo un percorso off-road dal 28 al 30 giugno saremo in Toscana un altro appuntamento così come l'anno scorso a fine anno a dicembre abbiamo fatto in Toscana faremo un appuntamento anche qui nelle valli senesi partendo e facendo giri meravigliosi la natura toscana è una delle più belle dal 19 al 21 luglio per il terzo anno consecutivo saremo a Brunico saremo a Brunico presso il sesto reggimento alpini che anche quest'anno ci accoglierà come sanno fare loro dove potremo fare un'esperienza bellissima nel loro campo specificatamente progettato per l'off-road con ostacoli naturali ostacoli artificiali e lì è veramente consapevolezza fra l'altro in un ambiente particolare dormiremo in caserma quindi vivremo la vita anche militare un po' come dire un'esperienza immersiva vogliamo fare delle cose diverse dal 6 all'8 settembre andremo in Piemonte quindi prevediamo di fare il Colle del Sommelier saremo insieme a Francesco Simonato che è attualmente il detentore di Overland che è un marchio interessantissimo andremo a visitare il Museo Overland e faremo un percorso in fuoristrada aperto proprio da Francesco Simonato con il suo Iveco che è stato anche nell'ultima Parigi Dakar ad ottobre non abbiamo ancora la data precisa organizzeremo il corso di primo brevetto per guida in fuoristrada che cos'è non vuole essere una scuola soltanto vuole essere un momento di consapevolezza come sapete noi siamo il club è associato a Federazione Italiana Fuoristrada quindi sfrutteremo tutte le capacità le competenze degli istruttori che hanno un'esperienza decennale nell'ambito del fuoristrada per farci capire per farci comprendere sempre di più l'utilizzo della nostra macchina e soprattutto non necessariamente solo in fuoristrada ma come uscire d'impaccio da tutte le situazioni quindi sarà un evento veramente molto bello dal primo al 3 novembre saremo sul Lago d'Orta il Lago d'Orta non so se lo conoscete se avete mai visto quelle zone è un ambito italiano veramente molto particolare quindi faremo un'escursione fino al Mottarone andremo a fare un pranzo o una cena proprio sulla Riva del Lago quindi sarà un'altra esperienza meravigliosa dal 6 all'8 dicembre torniamo in Abruzzo torniamo in Abruzzo perché? perché faremo un tour che abbiamo voluto chiamare anche Family Tour perché sarà aperto soprattutto e anche alle famiglie tutti gli altri lo sono però qui un'ulteriore particolare attenzione alle famiglie ai ragazzi eccetera e faremo un tour sempre utilizzando off-road andando a fare anche delle degustazioni di prodotti tipici andando a visitare cantine o aziende che fanno produzione di prodotti tipici in Abruzzo e Dulcis in fundo faremo un evento finale l'8 dicembre per farci gli auguri per concludere anche questo 2024 che si sta già dimostrando molto interessante Giacomo si è già prenotato per tutti i tour assolutamente sì avremo ovviamente con noi progetto auto e l'invito che faccio a tutti è se volete sfruttare al massimo questa macchina se voi volete divertire se volete conoscere gli altri che già fanno parte del club se volete vivere delle esperienze che sono belle noi ci dobbiamo divertire ci dobbiamo rilassare dobbiamo parlare anche di fuoristrada ma soprattutto conoscersi perché poi si intrecciano tante belle relazioni tante situazioni anche di amicizia quindi iscrivetevi al club assolutamente sì iscrivetevi al club andate sul sito ve lo scrivo qui www.newdefenderbestclub.it compilate la scheda 50 euro e vi iscrivete al club avrete tutte le informazioni possibili linea diretta con Giacomo perché ovviamente è presente all'interno del club quindi io non so cosa aspettate non so che dirvi a questo punto che cosa vogliamo vogliamo suggerire ah qualcuno ci ha detto che sembra che il new defender lo cambino ci sarà un restyling noi attualmente come concessionaria non c'è giunta nessuna circolare quindi per adesso no non si prende non c'è nulla si dice che uscirà il defender baby anche qui non abbiamo nessuna data certa nessuna circolare esatto quindi new defender ma poi voglio dire Land Rover non cambia le macchine ogni due giorni assolutamente è proprio quella la peculiarità di Land Rover in confronto altri ci sono altri brand che cambiano la macchina ogni sei mesi per cui ogni volta che acquisti la macchina ce ne sono ce ne sono passate altre cinque sei versioni se qui c'è il restyling per bacco fra il model year 2023 e il model year 2024 ci sono delle variazioni ma la macchina è quella esattamente vi dirò io qualche giorno fa ho rivisto il mio vecchio Discovery 4 ed è ancora bellissimo assolutamente Discovery 4 cioè Land Rover ha questa grande peculiarità questa grande forza che mediamente un restyling avviene dopo 8, 9, 10 anni ed è importante sicuramente perché le macchine sono talmente belle sono talmente di classe sono talmente come dire che si fanno vedere che non è necessario fare un restyling proprio così nascono già belle come si sono vie allora dobbiamo dire altro? ci siamo credo abbiamo detto tutto questa volta ho parlato molto più io che lui quindi mi pagherà alla fine di questa cosa e se volete avere notizie ve lo ripetiamo scriveteci contattateci andate sul sito mandateci una mail iscrivetevi al canale perché insomma questo canale sta riscuotendo un discreto successo e ci vediamo al prossimo al prossimo appuntamento ok ciao a tutti ciao grazie ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.